Con il punteggio di 3 a 0 il volley soverato del presidente Matozzo conquista l'intera posta in palio al cospetto dell'antea Vicenza Volley nel match disputato al Palascoppa e valevole per la non aggiornata di ritorno del campionato di Serie A2. 25-15, 25-23, 25-20 i parziali che hanno consentito alla formazione soveratese di conquistare l'accesso alla pulpromazione. Una vittoria meritata per la compagine biancorossa che ha condotto nel punteggio sin dall'avvio e che quindi conquistando l'intera posta in palio si è guadagnata per l'ennesima volta la post-season. Un traguardo sicuramente importante per una squadra giovane in una stagione non facile ma che quindi promette di dare ancora soddisfazione ai tifosi ionici.